Vi spiego come è andata la mia interrogazione di storia dell'arte su impressionismo e post-impressionismo, con anche il review al voto. Ha fatto due domande a testa, la prima domanda che mi ha fatto è stata Assenzio di Degas, questo quadro che personalmente mi piace, c'erano anche tante cose da dire, quindi super contenta. E poi invece l'altra domanda che mi ha fatto sul post-impressionismo è stato un confronto di Cristio Giallo di Gauguin e la veduta dopo il sermone sempre di Gauguin, con anche un riferimento alla sua concezione pittorica dell'immaginazione e della memoria. Erano dei quadri comunque che mi piacevano, a me piace moltissimo l'impressionismo e anche il post-impressionismo e sinceramente ero preparata, avevo studiato. Poi la prof magari quando qualcuno non sapeva qualcosa chiedeva agli altri, allora in quel caso rispondevo però solo se interpellata perché io odio quando magari durante le interrogazioni uno interrompe l'altro perché vuole rispondere, cioè ma rispetto. Vabbè, in ogni caso ho preso nove, quindi super soddisfatta.